E' una scuola di eccellenza che si appoggia all'Università di Pisa. 560 persone si sono iscritte quest'anno e ne sono entrate 32. Mi è servito quello che mi hanno insegnato per passare il test, soprattutto alcune cose di fisica che mi sono state insegnate dalla Prof Biella. Ancora più importante però mi hanno aperto le porte ad altre esperienze che ho fatto durante cinque anni, ad esempio le Olimpiadi di Matematica e Fisica, che mi hanno permesso di approfondire ulteriormente queste materie fino ad arrivare a un buon livello.